Raga faccio un intro molto veloce per dirvi alcune cose, parecchi mi hanno scritto nello scorso video intanto di Minecraft, vi ringrazio per il mi piace che avete lasciato, per le visual, per i commenti belli che avete lasciato, per tutto quello che avete scritto sotto quel video perché davvero vi ringrazio un sacco, mi ha fatto capire un po' che sta serie l'avete apprezzata davvero e io sono veramente riconoscente, grazie ragazzi, grazie. Quello che vi devo dire è che parecchi di voi l'hanno intesa come uno scherzo d'aprile, tanto siamo vicini al primo aprile, lo scherzone è tornata Minecraftita, no raga non è uno scherzo, è vera sta cosa, sono serio, la serie è in letargo. Oggi andiamo a fare un ripercorso delle prime stagioni Minecraftita, seguiranno tutte le altre, oggi andiamo a riprendere un progetto che avevo iniziato, quella della Minecraft unita, quindi una Minecraftita completo, quindi con tutti i mondi, sto elaborando una cosa, magari la mettiamo su server, sta venendo fuori un discorso abbastanza interessante a livello comunque generale, andremo più in modo specifico nei prossimi episodi, soprattutto con le idee che spero mi darete voi nei commenti, spero vi piaccia come idea, in modo tale da creare una Minecraftita unita, quindi tutti i mondi dall'1 all'8 in un unico server con un hub centrale, quindi tu arrivi nell'hub centrale, scegli di andare da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perché abbiamo fatto 8 e ti trovi in tutti i mondi, c'è sciapò tanta roba. Detto questo ragazzuoli, bel mi piace godere il video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, questa è una nuova serie che voglio portare avanti in vista del ritorno di Minecraftita, per il semplice fatto ragazzuoli che oggi che cosa andiamo a fare? Vi ricordate il progetto Minecraftita completo? Ok, quello di creare un mondo contenente tutte le strutture che io avevo creato in questi 3 anni di Minecraft. Idea interessante, particolare con i risvolti addirittura, no vabbè ok, senza stronzate raga perché poi mi vengo male, è una certa ora, è tardi, vorrei cadere a letto, è mezzanotte, ma perché domani devo stare presto, casinato, divagiamo, divagiamo. Senza divagare, no, sono più allegro del solito, non so per quale lo scomotivo, ma che cosa vi devo dire raga? Un progetto che ho abbandonato per il semplice fatto che mi dava fastidio stravolgere il mondo, perché di cose che devi prendere come base a un mondo, lo devi cambiare, devi fare, modificare. No, no, non fa per me, a questo punto ho pensato di creare una mappa contenente i chunk, ok, quindi parliamo, non è come se io adesso createnessi questa parte di mondo, a un certo punto magari prendo, ma lontano faccio tot, blocchio, magari lo riusciamo a fare meglio anche con un command, con un tpeer, e mi porta, tac, sul mondo della seconda stagione, bam, entro in un portale, bam, seconda stagione, oppure lo metto su server, ci metto tutti i mondi, sarebbe figo, right? Veramente figo, immaginate che figata cazzo, e vi immaginate, cioè, avere tutti i mondi di Minecraft, cioè, sarebbe una cosa veramente assoluta, cioè, tutta Minecraft ce l'hai, e quindi potremmo creare un serverino, gli diamo quanto, ho un 8 giga, tranquillo, che già ce l'ho, tra l'altro, infatti, ringrazio GH, che comunque ci permette sempre di avere dei server, cioè, per me, intendo, per il mio canale, poi, tutto quello di 3px è un'altra storia, ma, poi, tanto sapete più o meno, non so se, vabbè, ok, poi ve ne parlerò, magari, un'altra volta non divaghiamo, quindi, l'idea hub centrale, ma proprio una cosa semplice, con 8 portali, entri in un portale, in ognuno di questi portali, e bam, ti porta, dove cazzo ti va, cioè, geniale, raga, mondo prima stagione, seconda stagione, terza stagione, quarta stagione, cioè, fantastico, che poi, perché, fammi, ci sono qua, ci sono tutti gli altri mondi, ma, vi rendete conto, questa è una stagione che io facevo 3 anni fa, ma, manco, questa è, fammi, qua, che, Dio, ricordi, bella, 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 ci sono, queste sono le mappe, che io ho scaricato, da internet, e sono accessibili a tutti, cercando il numero dell'episodio corrispondente, tanto vanno a bari di 50, quindi, Minecraft di episodio 50, il 100, che c'è questo download, poi il 150, che c'è quello della Minecraft di da seconda stagione, il 200, il 250, qualcuno è a 60, magari ha sfasato un po', per il semplice fatto che, comunque, mi, cioè, mi stava scomodo, magari, fare il download prima, quindi l'ho ritardato di 10 episodi, non lo so di cose, però, comunque, se volete, potete tranquillamente andarli a trovare. Ora, sorvolando sul delirio di ogni potenza che c'è qui dentro del cazzo Wither di merda, non sta funzionando, ok, un attimo, ho leggermente ansia che questo sia liberato, no, se non mi tanca, in teoria resta, perché se è stato intrappolato precedentemente, funziona, se, invece, provate a intrapporarlo, diventa un casino. Ecco, ecco, sta zitto Wither, fai un casino, mamma mia, l'immortaccio tua. Sì, lo so, fa casino, mi spiace, però, vedete, la figata, cioè, nel senso, a parte, la farm di pollo era, veramente, veramente, è sempre presente nei miei video. What the fuck is crazy, se, 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 se. Ok, figo, seconda stagione di minecraftita, una delle, eh, vabbè, son belle tutte, che cazzo, qui ho tentato di riproporre i cosi, ma non vennero benissimo i sotterranei, non ce l'ho sbatti, mi erano venuti male, non so, non ero carina, come cosa, però poi venne tutto a caso, non lo so, non mi veniva, non c'evo l'ispirazione per fare i sotterranei, poi con la, sarà l'erba, non mi piaceva, sarà le cose, ma che cazzo, le so, questo era carino, in mezzo, poi, la casa figa, un botto, no, bello, la seconda stagione del laboratorio è venuto benissimo, tra l'altro, tutta la cinta muraria, la stalla là in fondo, guardate lì, che figata, le mura che si aprivano da soli, i totem, bello, right, right, bel mondo, anche questo, e quindi l'idea è proprio quella di creare, come dicevo, stab, tu entri dentro e ti ritrovi in tutti questi mondi, ve lo metto su server, magari, ci facciamo una live, una volta ogni, cioè, tipo, faccio stare 5 minuti, un player, quindi, 5 minuti il player, poi cambiamo player altri 5 minuti, poi altri 5 minuti, e così potete visitare, non posso, io l'aprirei al pubblico volentieri, ma il problema è che devo, il casino mi verrebbe fuori quando dovrei andare a, per esempio, far gestire tanti player, il casino è che non ce la faccio a livello di RAM, cioè, bisogna che io prenda un server veramente figo, ma di cose non si può fare, perché non si può fare, è complicato, no, sapete, perfettamente complicato, una cosa del genere, questo è il coso, cioè, bellissimo, è bello, no, veramente, è una cosa figa, ah, quello, 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 quel simbolo, me lo scrivete nei commenti, vediamo quanti sono informati su quello che succedeva su YouTube America qualche anno fa, e non solo, tra l'altro, che il simbolo l'ha, quel simbolo lì, che simbolo è? Eh, 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 chi vince un cuore da me ve lo giuro, trovatemi quel simbolo, ditemi che, no, io lo so, ovviamente, se no ve lo chiedo, però, insomma, è una serie che ho portato, che, a cui mi sono ispirato tanto, uno YouTuber fantastico, un grande, un grande Minecraftiano, veramente di, di, di dotevole livello, assolutamente sì, quindi, se mi trovate quel nome, io, DG, sono veramente, cioè, no, nel senso, se sapete di che cosa sto parlando, significa che siete veramente top, tanta roba, bravi, però, nel senso, non fate ricerche, cioè, se lo sapete, scrivetelo, se non sapete, non lo scrivete, perché è inutile, non sto facendo ricerche, siamo buoni tutti, anche se, per essere sincero, non dovrebbe essere proprio facilissimo, ma, ci si prova, ma che è sto casino, ah, sono questi, sono questi cosi qua, eh, state zitti, mamma mia, ma quanto flexava sto cosa, flexava x, eh, un'armata, eh, e qui c'era l'hangar, invece, dove io ho costruito la mia macchina, che poi non poteva necessariamente volare, perché usciva, rea qui, e poi mi andava in del culo, e, no, 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 non va, però bello l'hangar, bello l'hangar, bello anche la coreografia con cui l'ho costruito, ma no, è, costruivo bene, ero, DG, ero tosto, e questo faceva partire la macchina, il pulsante con lo smeraldo, Mamma mia Ma io sono bravo invece Mamma mia Bravo da adesso quasi Chapeau Notevole Mi è fatta bene la costruzione cilana Beh Mecoyons Mecoyons Sono Un completo Riperdato Ho registrato Due minuti Con la scena sbagliata E mi ha fatto a vlog Ah io ve la metto Perché mi è piaciuta un sacco Sono cose interessanti Quelle che ho detto Voglio che voi ascoltiate Non ci sarà Minecraft di sottofondo So tonto E me regalo Perché quando fai le cose Non c'è laura Ti viene male Comunque vi lascio le due clip E Intanto alla fine Andavo in giro Non ne ho detto niente Parlavo semplicemente Di quel mausoleo La cosa Clue è stata Quel mausoleo Che mi ha fatto ricordare Alcuni avvenimenti Di cui vi ho parlato Beh vi lascio le due clip E ci vediamo al prossimo video Ciao raga Poi ovviamente Tante cose non funzionano Qua per fatto Che Ercasino 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 Qual è Ercasino Che cazzo Il casino è che stavamo in altre versioni Quindi non funziona Questa è stata uno dei primi Bug di duplication Con il tempio delle sette sfere del drago Il mausoleo Mamma mia raga Mamma mia Quanto flix Ah beh era figo Madonna Bella la seconda stagione La ricordo Anche in maniera Piacevole Per motivi che poi hanno condizionato Anche la mia vita privata Interessanti Ricordo Bei momenti passati Qua sulla seconda stagione Parlo del periodo Della maturità Delle cose Poi si è conosciuto Poi che poi E' diventata la mia ex Ma vabbè Non stesso Però è un periodo Che frequentavo Insomma In tante cose Ecco infatti Monster Hunter Tutti anche gli achievement Si sono sfanculati Però no La maturità Le cose Se volessi Sta primavera Che arrivava L'ho portata Dall'inverno Alla primavera Cioè Delle cose Che ti dicono Poi l'estate Ho cambiato Ho fatto il terzo Però Già lì Il canale Che prendeva via Io che Chissà Che pensavo Il periodo La maturità È stato un periodo Fantastico Della mia vita Raga Ve la racconterò In un video Appena Si parla Della maturità Perché almeno Ci faccio anche Il chicchibettino Tranquillo Come no Sto scherzando Fica Comunque ragazzuoli Penso che per questo video Possa essere tutto Fatemi sapere Che cosa ne pensate Questa cosa Mi piace A me tornare Ogni tanto In questi vecchi mondi Ve le ho fatte In sacco di worktour Ma anche per i nuovi script Perché voi li conoscete Conoscete questi mondi Conoscete la mia storia Perché mi piace Raccontare Quello che è stato La storia del mio canale Perché alla fine Mi sono divertito un sacco Ragazzi Ho stato Mamma mia Tre anni Bellissime È stata una cosa Epocale Mamma mia È stata Fantastico Senza questo Io non sarei la stessa persona Non sarei io Senza il mio canale A youtube Perché parca miseria Ho imparato a condividere Con voi Che siete stati Un pubblico Più o meno ampio Nel corso del tempo Con alti e bassi Ma come è giusto che sia Ma siete stati Un po' la mia famiglia Che mi è confidenti Cazzo Mi viene al termine Perché io quando c'è Qualsiasi cosa Racconto Mi piace parlare Con voi So che parlo Davanti nella camera E potenzialmente Potrei sembrare Anche stupido Però Poi so che c'è gente Dall'altra parte Che mi ascolterà Quindi Alla fine Non è così tanto banale Ragazzoli Vi ringrazio Per la visione Troppo sentimentale Eh free Dai sveglia Ragazzi Vi ringrazio per la visione Un bel mi piace Commento Qualsiasi cosa E ci vediamo Un prossimo video Fatemi sapere cosa ne pensate Stasera E in generale l'idea Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti